Incidenti stradali è vera emergenza. Il bollettino di queste ultime 48 ore sembra un bollettino di guerra. Tre morti, due feriti gravi in prognosi riservata, portati in rianimazione al torrette di Ancona, in eliambulanza un uomo ricoverato a Pesaro. Le strade di Fano e Pesaro si sono tinte di Rosso. Con il caldo sembra essere esplosa anche l'emergenza traffico. Le siligate all'altezza di Colombarone rimangono il tratto maledetto. Tre morti nella giornata di ieri, a pochi metri dove il 10 marzo scorso morirono altri due amici ventenni. In una domenica che doveva essere invece di sole e mare, uno schianto frontale tremendo tra due auto la trasforma in una domenica di strage dove trovano la morte. Tre persone, una coppia di sessantenni ed una ragazza di 32 anni, passeggera dell'altra auto, quella che ha causato il terribile schianto condotta da Marco Razzieti di 31 anni, trasportato in rianimazione all'ospedale regionale di Torrette dove il bollettino medico oggi parla di prognosi ancora riservata anche se non è in pericolo di vita ma le sue condizioni permangono gravi. Come gravissime anche data l'età permangono ad oggi le condizioni della donna di 89 anni, ancora in prognosi riservata sempre a Torrette che alle 9.30 di ieri mentre attraversava la via Roma nei pressi del Flaminio è stata travolta da uno scuterone di grossa cilindrata per la cui dinamica è ancora in fase di accertamento. Anche per lei dopo un volo di una decina di metri è rimasta esanime sull'asfalto in un lago di sangue Icaro si è alzato in volo. Come è accaduto anche nella giornata di sabato dove l'ennesimo incidente tra moto e auto ha confermato che spesso ad avere la peggio sono sempre le due ruote ed infatti la coppia di motociclisti a bordo della moto BMW è rimasta ferita. Lui in modo non grave è trasportato al pronto soccorso di Pesaro, per lei invece è decollata l'eliambulanza che l'ha trasportata ad Ancona dove nonostante inizialmente il quadro clinico è sembrato subito grave col passare del tempo le sue condizioni sono migliorate ed attualmente anche se ancora ricoverata ad Ancona è fuori pericolo salvo naturalmente complicazioni.